In apertura l'incontro a Bassano tra le categorie economiche e il sottosegretario al Ministero di Giustizia Andrea Ostellari per discutere la proposta di riapertura del Tribunale di Bassano come Tribunale della Pedemontana. Vediamo. Confartigianato è favorevole alla proposta di rilanciare la sede del Tribunale di Bassano quale strumento di giustizia per l'area che insiste sulla Pedemontana, intesa come territorio economicamente e socialmente omogeneo. È quanto sostiene il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza Gianluca Cavion che si augura che il Tribunale della Pedemontana venga dedicato alle imprese al fine di ridurre la durata inaccettabile dei procedimenti in sede civile che condiziona negativamente la vita delle attività economiche. La giustizia deve avere dei tempi certi, così il Presidente del raggruppamento di Bassano Sandro Venzo. Ma questa mattina si respira veramente la giusta aria, quindi la speranza non solo è vera ma diciamo che siamo veramente all'ultimo miglio, quindi o adesso o mai più e secondo noi è adesso. La giustizia deve avere dei tempi certi, non come adesso che magari vai in causa anche per 10-15 anni, quindi serve una giustizia molto più veloce e molto certa perché gli investimenti vengono fatti. Se invece abbiamo delle cose appunto non chiare come in questo momento la giustizia, tu cerchi di fare investimenti in qualche altra parte, quindi non riusciremo neanche ad essere attrattivi per le aziende che vogliono venire e investire qui. Per noi aziende del territorio diciamo che avere una giustizia di prossimità e un territorio di mezzo milione di persone che tiene in mano appunto questo tribunale della Pedemontana, questo è un valore aggiunto non da poco, quindi è finalmente, e l'abbiamo capito stamattina, lo stiamo capendo tutti. Lo sta capendo la politica, noi lo sapevamo già ma l'importante è che la politica capisca che il cittadino ha bisogno di una giustizia veloce e celera. E il sottosegretario al Ministero di Giustizia, Andrea Ostellari, ha confermato che la nascita del nuovo tribunale non toglierebbe nulla agli altri già esistenti. È chiaro che noi se vogliamo fare un investimento di questo tipo non possiamo togliere agli altri tribunali o togliere agli altri territori, anzi noi stiamo già come Ministero facendo di tutto per portare avanti politiche di nuove assunzioni di personale per i tribunali esistenti. Questo invece progetto ovviamente riguarderà nuovo personale che ovviamente dovrà essere anche capace di utilizzare le nuove tecnologie grazie all'impegno del Dipartimento della Transizione Tecnologica che oggi si sta mettendo al lavoro per ridare più strumentazione e più velocità al nostro mondo della giustizia. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.